bene ragazzi a tutti questo io sono figli al tube allora ho incominciato il video e ho trovato già una carta strafissima io scusatemi sempre perchè nello scorso video ho detto quella cosa che farò i video tra me scusatemi ma sarà un video un video uscirà ogni giorno un video ogni giorno un nuovo video ecco niente questo di qua è quello che volevo dire iniziamo a spacchettare siamo in un nuovo video sempre di foto 17 draft nello scorso video ho trovato Lewandowski carta questa di qua ho trovato anche Ronaldo If non lo so è stato un casino non lo so iscrivetevi nel canale di 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 Seed di Seed che è un mio amico iscrivetevi al suo canale perchè è molto bello il suo canale cioè fa video divertenti ha aperto da poco anche il canale come me però è bravo iscrivetevi perchè non ve ne partirete noi apriamo altri pacchetti intanto ok vediamo un poco cam che è schifo che ho già che è un tipo ho trovato proprio là come lo scorso video mi sembra che l'ho fatto mi sembra che l'ho fatto nello scorso video oh leggenda chi è non è new però dai aghi aghi come cavolo si chiama aghi aghi sono è un brutto aghi sono no come si dice vabbè intanto noi qua troviamo parola che fa decisamente schifo vediamo un poco allora spagnolo amos buono tanta roba vediamo apriamo un altro pacchetto vediamo che troviamo che schifo avevo lisciato messi messi bronzo ho detto cosa messi bronzo impossibile chi sai giur di alba meglio sempre meglio di niente almeno ci sono i coriandoli che schifo il bronzo no digna ex giocatore della roma come marlos vabbè che schifo marlos io l'odio marlos lo odio male vediamo ora lui chi è dan ma chi ti conosce chi ti conosce uno forte chi sai che schifo nasta si chiama nasta vediamo lì ilicic ilicic tanta roba poca perché fa schifo io tipo io vado quindi se trovo tipo non lo so non lo so è un troll lolate dai di nuovo ilicic cavolo c'è la giardia alba qua tipo dove sotto oh oh new chi sei mustafi mustafi vabbè mustafi o mustafi non lo so ma si dice però lo conosco cioè non so però che posizionare quindi ah vabbè non so javi javi grazia grazia o grazia non lo so come si dice bootland bootland poca roba chi sei dai una carta un po speciale anche un po buon che cagata una carta speciale dai mi che schifo di carte trovo solo quelle merdose 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 wake up che schifo nava stai che cavolo allora io per questo video voglio almeno cinque like se trovo qualcuno di forte quindici like quindici like mi sa che rimaneva con cinque like però vabbè sempre like sono io non so quello che ci faccio con il per il supporto al canale voi con un like mi fate capire che volete supportare volete avete capito giusto buona domenica a tutti perché oggi è domenica e su cliché c'è domenica epica ma c'era barile goblin e furia almeno mi interessa barile goblin e furia mi interessa tipo arco x golem no solo perché domenica epica e poi se c'è qualcuna cosa dell'energia un culo dell'incredibilità però vabbè vediamo vediamo jimbo che sai che schifo bertrand che schifo vorrei trovare qualcuno di più forte tipo non lo so jibs lo confondo sempre con jibs che jibs è una leggenda tanto sono tipo con una cosa tipo quale ci sono gli accappati per con una cintura che la sto sbattendo nel letto perché sono proprio sopra il letto a ghiaggianti vediamo chi sai mai nella vita quello che pensavo io perché lui non pensavo robin però no ben già lo non è mio guardi 89 89 89 89 non so perché sto dicendo om titinomo mattieo che schifo ma già l'avevo mattieo ma vero col tenere perché registro col tablet ma se voglio posso anche attaccarmi posso anche fare il video alla telecamera con fotocamera poi con il carino batterie lo attacco al tablet scherzo ci vuole il cavo proprio e non so dove cioè io devo chiedere a mia frella poi posso anche fare il video col telefono e vabbè io se qualche volta devo registrare col computer io posso fare il video col computer però posso il tablet e lo carico però senza webcam perché non ho senza immaginata mia faccia perché non ho una faccia non ho una webcam se non me la devo fare presto da mio cugino però è tutto collegato e per saccarlo c'è per un bordello di tab quindi cacchio vabbè farò un video senza webcam però almeno vedete quello che faccio io quello che trovo io però la webcam no vediamo vediamo un po ok vediamo che schifo modesta adesso è un aggettivo ah raga volevo dirvi che sarà anche un casino montare video perché c'è la scuola quindi ogni tanto potrebbe capitare che un giorno tipo non faccio video ma cercherò sempre di far uscire un nuovo video almeno lo farò uscire di sera se proprio devo far uscire un video lo faccio uscire di sera oppure tipo quando sono da mia nonna non mi devo portare il tablet a scuola non può essere oppure direttamente qui c'è il video il giorno prima e lo carico lì domani però sarebbe un casino vabbè raga poi magari farò un video proprio per questa cosa poi ora dobbiamo stare concentrati a trovare carte forti rare anche se non è una forte almeno una rara cavolo una carta rara che tipo la power no la toti la hero non so la cosa quella grigia non lo so non mi riesco a trovare nessuno perché il versozzo bronzo tozzo anche anche tutto quello che vuoi non lo so non lo so non lo so non lo so rodolfo chi ti conosce pure a te o tu stesso i tuoi compagni il tuo allenatore e la tua famiglia anche i tuoi amici ti dimenticano dai una forte dai una forte non voglio concludere il video senza aver trovato nessuno dai una forte dai una forte oh chi sei che schifo buonaventura dai una forte tanto ho dei capelli che fanno schifissimo oh if almeno un if dai chi gonalos ma chi ti conosce vabbè almeno un if c'è gonalos gonalos chi ti conosce gonalos chi ti conosce vabbè a sé che ci ha dato l'if quindi un poco mi accontento però non mi accontento del tutto non del tutto chi ha alabama dai qualcuno tu però if magari se eri if c'è tanta roba ok raga con la carta di gonalos if posso concludere qua il video allora niente vi posso dire che ho da dirvi passate sulla pagina facebook pagina instagram che sapete sempre come si chiama peppe allora la pagina instagram si chiama peppe provenza perchè mi chiamo giuseppe provenza e la e la pagina di facebook giuseppe provenza e poi lasciate un bel mi piace se ancora non l'avete fatto iscrivetevi ciao